Salve, sono Urbano della Sani Moreno con Svache Audi di Fucetto. Oggi vi presento la nuova arrivata nel nostro parco vetture usate. Si tratta di questa bella Fiat 500 L, quindi la monovolume delle Fiat 500 ed è un 1.013 cilindrata multijet, quindi turbodiesel, 95 cavalli dell'anno 2017. Una cosa da dire molto importante è una vettura adatta per tutta la famiglia perché può essere guidata anche dai ragazzi e ragazze neopatentate, quindi per tutta la famiglia. Da queste immagini possiamo vedere lo stato d'uso della carrozzeria esterna. Di questo bel bianco, brillantissimo, non ci sono graffi, non ci sono ammaccature, quindi una macchina che esternamente, quindi esteticamente, è molto molto bella. Andiamo adesso a vedere gli accessori di questa vettura partendo dal nostro pannello anteriore sinistro dove abbiamo i quattro interruttori per la regolazione dei vetri elettrici. Abbiamo poi anche l'interruttore sempre per la regolazione degli specchietti esterni. Andiamo a vedere anche il nostro cruscotto in generale. Partiamo dalla leva del cambio. Cambio manuale, 5 marce, in basso abbiamo la presettina anche per collegare il nostro cellulare con la presa usb, climatizzatore manuale, display dell'autoradio, tutto touch, con gli interruttori per mettere il nostro autoradio, disporre di alcuni comandi, bluetooth e le varie registrazioni. Abbiamo poi il suo volante multifunzione con il comando, tra l'altro, vocale per richiamare sia l'autoradio, sia il bluetooth. Passando al chilometraggio troviamo solamente 56.571 chilometri, naturalmente completamente con i tagliandi fatti, quindi una vettura controllata anche sotto il profilo meccanico. Infatti, come potete vedere, l'ultimo tagliando è stato fatto a 46.600 chilometri, quindi torno a dire una vettura completamente controllata. Andiamo adesso a vedere anche la nostra tappezzeria. In questo bel tessuto bicolore, nero e grigio, non ci sono strappi, come potete vedere, non ci sono usure, non ci sono buchi di sigarette, anche perché il precedente utilizzatore non fumava, quindi una vettura all'interno veramente bella. Come al nostro solito, la tappezzeria è stata lavata, igienizzata, a vapore, con questa lavorazione specifica. E il risultato di questa lavorazione è l'avere una tappezzeria veramente bellissima, un'accoglienza all'interno della nostra auto eccellente, quindi bella, pulita e profumata. E anche il bagagliaio è bellissimo, pulito, perché ha avuto lo stesso trattamento della tappezzeria interna. Abbiamo i sedili posteriori sdoppiati, abbiamo sotto il pannellino il suo ruotino di scorta con tutta la sua attrezzatura, anche questo molto importante. Abbiamo anche i cerchi in lega da 16 pollici, con gomme estive, con un ottimo, veramente ottimo, fatti strada, quindi ancora tutte, tutte da sfruttare. Andiamo adesso a vedere anche il nostro vano motore. Anche questo si presenta veramente in un modo bellissimo, eccellente, con tutti i suoi componenti al loro posto, a partire dalle plastiche, tubini in gomma, connettori elettrici, livelli. Anche perché le nostre vetture, prima di essere messe in vendita, vengono sottoposte ad un accurato controllo presso il nostro service. Come? Seguendo una checklist multicontrollo e sono praticamente 110 punti da verificare singolarmente affinché la vettura sia completamente funzionante e quindi affidabile. Dopodiché ci viene abbinato 12 mesi di garanzia, come prescrive la legge, con possibilità per il cliente di fare un'estensione fino a 24 mesi. Possibilità anche di pagamenti rateali personalizzati, con più soluzioni che vi saranno spiegate in sede nel caso ce ne fosse il risultato. E adesso salite in macchina insieme a me e andiamo a fare anche un giro di prova su strada. E nel salire sulla nostra vettura la prima cosa che notiamo è proprio l'accoglienza, la pulizia dell'abitacolo, veramente eccellente. A cosa serve il nostro giro di prova? Serve a capire il funzionamento generale della nostra vettura. Ecco, io che sto guidando da questi primi metri mi viene da notare. Intanto in primis la frizione morbida, stacco preciso e perfetto e anche il cambio quindi ha un comportamento morbido, preciso negli innesti. Anche l'assetto stradale è buono perché la vettura va veramente dritta su strada e non ci sono assolutamente vibrazioni sulle ruote. Mentre la scatola di guida che in questo incrocio la dobbiamo girare parecchio la sento leggera, precisa, senza nessun tipo di gioco. Quindi guidabilità generale veramente ottima. Andiamo adesso a sentire il lavoro delle nostre sospensioni, degli ammortizzatori, nella classica strada con le buche. Ebbene, sentiamo sì il lavoro delle sospensioni ma l'interno dell'abitacolo è veramente silenziosissimo, non ci sono assolutamente rumori anomali. Quindi un ottimo funzionamento anche di queste. I componenti della nostra auto sono stati tutti controllati, quindi tutti completamente funzionanti. Quindi è una vettura pronta per essere acquistata e guidata e torno a dire anche dai ragazzi e ragazze neopatentati. Una cosa importante se abitate lontano dal nostro punto vendita e quindi in un primo momento impossibilitate a venire a vedere la vettura. Possiamo prendere un appuntamento telefonico e con whatsapp video spiegarvi la vettura in ogni suo particolare pregi e difetti affinché quando deciderete di venire personalmente la vettura la conoscete già. Basterà solo rivederla insieme e poi naturalmente cosa importante trovarla su strada. Anche la meccanica è ottima, silenziosa, brillante, con il suo motore turbodiesel da 95 cavalli ed economica attenzione nei consumi. Dopo queste notizie torniamo al nostro sito di partenza per le ultime informazioni. A questo punto vi invitiamo a visitare il nostro sito diretto autosani.it dove troverete tutte le informazioni più dettagliate sulla vettura che abbiamo appena visto. Troverete naturalmente anche il prezzo. Seguiteci poi sui social Facebook, Instagram all'indirizzo sanimoreno. Vi ringrazio per l'attenzione. Vi aspettiamo presso il nostro punto vendita di Fucecchio oppure telefonate ai nostri numeri. Vi sarà comunque risposto a tutte le vostre domande. Un grazie ancora e come diciamo sempre alla prossima vettura.